Amianto killer, anche nella casa di Chi, reati ambientali li contrasta per missione. È ben visibile anche dalla strada e sta lì da decenni l'amianto che ricopre numerosi padiglioni della caserma Cefalonia Corfu, l'enorme struttura tra la via Aurelia Antica e via Bravetta nel cuore del sedicesimo municipio. Nonostante le bonifiche effettuate a metà degli anni 90 e all'inizio del 2000, le lastre di copertura in cemento amianto non sono state del tutto rimosse dalle strutture dove alloggiano e dove lavorano i militari delle fiamme gialle. La denuncia arriva dall'osservatorio nazionale sull'amianto, che si appresta a illustrare la situazione romana alla procura di Padova, dove è già in corso un'indagine. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza ci sono stati molti casi di mesotelioma e di altre patologie, classicamente asbesto correlate, per una delle quali abbiamo depositato un esposto presso la procura di Padova, che è appendendo il relativo procedimento, e alla quale depositeremo delle carte relative anche al caso della caserma Cefalonia-Courfou, per la quale la presenza di amianto è ditta autologica e la palissiana evidenza, anche volendo soltanto avvicinarsi alla caserma stessa. Perché non si sono fatte finora le bonifiche? Riteniamo che ci sia una grave violazione delle norme costituzionali da parte delle pubbliche istituzioni, che riteniamo anche per motivi di carattere economico, ma in realtà bisogna considerare che non bonificando si determina l'insorgenza di queste patologie, quindi si spendono molti più soldi nel futuro per prestazioni sanitarie, previdenziali, che vanno ad aggiungersi ai costi umani e sociali. A distanza di vent'anni dalla legge del 1992 che vieta la vendita e la produzione del pericoloso materiale, sono molte le caserme abbandonate o dismesse che non sono state bonificate. La Cefalonia-Courfou è attualmente sede del reparto tecnico-longistico e amministrativo per il Lazio e l'Umbria e sono sempre di più i militari preoccupati per una potenziale esposizione. Alessandro Portelli, lei è il rappresentante dei lavoratori all'interno della caserma Cefalonia-Courfou della Guardia di Finanza. Sono state segnalate diverse presenze di amianto all'interno della caserma. Che cosa si sta facendo? Principalmente grazie anche all'intervento dell'Ona c'è stata una forte sensibilizzazione a che questo amianto venisse successivamente rimosso. Certo, è un problema ben evidente. È evidente perché colpisce la salute dei militari ma anche delle persone residenti. Quindi si auspia che nei prossimi mesi o quantomeno in un breve periodo questa bonifica venga effettivamente realizzata. Quando sono stati fatti gli interventi di bonifica e sono stati sufficienti? Beh, assolutamente no. Non sono stati sufficienti. Quella caserma esiste dagli anni 60. Ci sono state delle parziali attività di bonifica che non hanno rimosso del tutto l'amianto attualmente presente. Siccome è dal 92 che è al bando, quindi non viene più commercializzato, è in evidente stato di deterioramento. Senta, dove è presente l'amianto? Principalmente nei tetti. Parliamo di coperture. Quindi sono strutture che vengono abitualmente frequentate e utilizzate comunque dai militari? Certo, perché attualmente la sede è operativa, è amministrativa, cioè viene fatta una regolare attività lavorativa all'interno della struttura. Quindi si coabita con la fibra killer. Ci sono stati casi di tumore che può essere correlato alla presenza di amianto in passato? Ci sono stati casi di decessi a cui comunque non posso dare nessun tipo di correlazione perché non erano mai stati segnalati.